Benvenuti alla fattoria di Nonno Peppino Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo nella fattoria di Nonno Peppino Ci sono accanto nelle barrette I polli E infine ci sono anche i gatti e il maiale C'è anche Nicolò Nicolò presentato Dici io sono Nicolò Basta dormire Quello è un maiale che è addormentato, non so perché si addormentano così, ma sotto terra E' questa? Si Ci sono anche i gatti e i cani C'è anche un pacchetto Oh 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 Questo è la mucca E' un bicello Ma è nato così oppure E' nato così è cieca questo bidello non bidello è un vitello non capisco che c'è una mucca è una mucca diciamo che fa il latte è maschetto il vitello non fa il latte la mucca fa il latte ci sono tutti questi animali adesso ce ne sono altri anche ci sono le caprette eccola vi accarezzate vai 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 a mangiare vai 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 va a mangiare pure il semino dentro allora allora prendila così guarda prendila facciamo così guarda no non la devi prendere di qua vedi così vedi bravi ma Andrea vai vai Andrea vai stai a capo vedi 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 la vuole lei guarda ma bravo bravo si ripara il fattore io ne lago da solo non pensi che finita qui ci sono anche i polli e le mucche i polli stanno da lì le mucche stanno da lì qui ci sono altri due tipi di poverele teniamo separate tutte le grandi li facevano male in pochina ma mi piace? mi piace? mi piace? mi piace? mi piace? ehi andrei dove vuoi andare c'è la borsa non entrare qua sono lì in vennello perché le hai messe insieme? stai con la compagnia tu vai? chunggo ma è venuto la dentro non va sono fatti sono fatti sono fatti sono fatti sono fatti sono fatti vuoi prendere la cannina lì? vuoi prendere le cannina mio fratello? andè eccola dov'è, vedi? eccola, vedi? vuoi prendere la cannina? prendile, mamma prendi vuoi prendere la cannina? vuoi prendere la cannina? prendi la gattitica io prendo la gattitica Andrew 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 ora metta lo dito la nuova è storta papà gira c'è andrea era vivendo mantieni papà mantieni lascialo si ride bene ragazzi il video finisce qui ti raccomando iscrivetevi al canale mettete un bell' pollice e una bella campanellina noi ci vediamo al prossimo video ciao iscrivetevi al canale e mettete un bel like ciao 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 ciao